Ragazzi buongiorno, allora da oggi iniziamo un nuovo format, uno al giorno, sui giocatori ancora sotto contratto a Benevento e chi vorreste che a male estremi rimanga e soprattutto chi secondo voi il presidente insieme al direttore tecnico faranno fuori quindi per oggi la scelta sono questi due giocatori, chi vorreste e secondo te rimarranno o no?